A Motta di Livenza, in via argine destro numero 5, si trova la Grotta del Sale di Paola. All'interno di una stanza rivestita di sale si crea un microclima marino che diventa un valido aiuto per la depurazione delle vie respiratorie. Asma, allergie, per gli sportivi, stress e qualità del sonno per grandi e piccini. Si pensi che 30 minuti sono come 3 giorni di mare. All'interno della grotta si fanno anche riflessologia plantare, trattamento riequilibrante, percorso con fiori di bac, respiro consapevole e pilates. La Grotta del Sale di Paola, aggiungi un pizzico di sale al tuo benessere.